In casa Siae sono arrivati i colla zio! Ciao a tutti! Ciao, 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 ciao! Ciao ragazzi, come state? Molto bene! Bene dai, freddoliti ma benissimo! Un freddo a Sanremo quest'anno veramente inaspettato! Ma di pomeriggio si sta bene, poi... Cala il sole! Cala il sole, è lì che... Bellissimo! Non so, ieri esibizione sul palco, vi abbiamo visto coloratissimi, un po' avete riportato l'idea di una boy band quasi, più che di un collettivo, adesso dico una roba che magari è... Però come è andata la prima volta sul palco dell'Ariston? È stata una grande emozione, ovviamente, tremavamo prima, prima di iniziare a cantare, eravamo molto colorati, sì, rispetto anche agli altri cantanti che si sono esibiti e è stata una figata pazzesca. Non vediamo l'ora di rifarlo domani. Siamo scesi tipo dicendo, cazzo, lo voglio rifare subito, immediatamente, cioè... Avevate questo slancio? È durato pochissimo. Anche perché non siamo mai contenti, quindi parlavamo del fatto tipo, cazzo, abbiamo sbagliato questo, abbiamo sbagliato quest'altro, quindi no, lo voglio rifare adesso, però... Eh, questa è una cosa interessante, perché appunto spesso non si è mai contenti dell'esibizione che si fa, invece voi mi sembra soddisfatti. No, sì, in generale ci siamo divertiti un sacco, questo è sicuro, poi abbiamo in testa tutte le cose che dobbiamo aggiustare per spaccare di più la prossima volta, sicuramente. Ci mancherebbe. Posso dire una cosa? Però spaccare dopo ieri sera, secondo me, è un po'. È verbo sbagliato. No, no, no. No, io volevo solo dire che quando siamo scesi dal palco, una cosa che ho notato interessante è che non credevamo, cioè non ci credevamo quando dicevano che era andata bene, no? Abbiamo cominciato a chiedere a tutti, ma allora com'è andata? Cioè, siamo stati bravi oppure no? E tutti ci dicevano, sì, bravi, bravi, però non ci credevamo, no? All'inizio siamo stati un po', tipo, no, vabbè, devo chiedere a qualcun altro, devo trovare uno di cui mi fido e mi dicono tutti delle bugie. Ma perché noi sappiamo, noi sappiamo. Anche di quelli di cui ci fidavamo, poi comunque ci dicevano benissimo. Ma perché noi sappiamo che... Di fidare sempre da chi dice, ci sono andato benissimo. Sappiamo che abbiamo sbagliato un po' di cose in realtà, cioè non abbiamo fatto proprio perfetta, precisa, pulita. Però vedrete nei prossimi giorni. Però facciamo un passo indietro. Voi da Milano, con l'azio, collettivo, un po' colletta, un po' dai parchi, dalle feste, al palco dell'Aristan. Come nasce la vostra musica, la vostra formazione? Allora, la nostra formazione nasce qualche anno fa. Nasce tutto da un'amicizia. Noi eravamo amici prima di tutto, prima di fare la musica. Poi facevamo musica da anni, ognuno per conto suo, per le sue cose. Abbiamo deciso di metterci insieme, partendo appunto da questa amicizia. E abbiamo cominciato a scrivere delle canzoni. Giravano un po', erano carine. E allora abbiamo cominciato. Sì, noi avevamo un gruppo di dieci persone, dieci amici, che cantavamo in giro per le piazze di Milano a Cappella, senza aspettarsi nulla, ovviamente. Lo facevamo per noi. Si può dire che è partito tutto da là. Questa cosa liceale, di far serata e cantare. Era la figata degli anni. È l'amicizia. E le canzoni nascono un po' ancora così. Il concetto di collazio è appunto, ognuno mette quello che più gli si addice. Quindi ognuno di noi non hanno un processo definito. Ogni canzone nasce in un modo diverso. Alcune nascono solo con la chitarra e le cinque voci, altre nascono in studio, utilizzando la strumentazione che abbiamo, le competenze anche che abbiamo. La grande strumentazione. Lanciamo un appello ai nostri discografici per farci qualche gear. E quindi niente, è come un mix, un equilibrio che neanche noi capiamo bene ancora adesso, però è un cocktail che a noi piace. Se volete assaggiarlo lo vedrete nei prossimi giorni. E poi è arrivato Sanremo Giovani e poi il palco dell'Aris. però visto che andiamo un po' anche ad indagare, soprattutto ad indagare nelle emozioni, quando avete sentito il vostro nome tra i partecipanti di questo festival? Il primo pensiero, la prima cosa, qual è stata? Allora, io sinceramente non ho elaborato finché non sono salito ieri sul palco dell'Ariston di essere a Sanremo. Ieri mentre stavo salendo ho detto ah ok, va bene, siamo qua. Però quella sera non mi ricordo niente di quella sera perché è tutto così veloce, tutto così improvviso che non riesce a elaborare. Sì, diciamo che è stata un'emozione simile a quella che ti descrivevo prima quando siamo scesi ieri, no? Cioè quando siamo... quando abbiamo finito Sanremo Giovani ha detto il nostro nome, ha detto che saremmo stati all'Ariston, veramente... anche lì sono sceso, ma l'ha detto veramente o l'ho sentito solo io? No, guarda che... Guarda che ci siete veramente, no? È stato veramente per sesso. Immagino, immagino. Invece per quanto riguarda il brano in gara come è nata la canzone? La definizione che diciamo sempre è che è un mariemonti perché lo abbiamo... No, perché ci abbiamo messo un anno in realtà a scriverla e abbiamo scritto il ritornello in montagna e le strofe al mare qua vicino, vicino a Imperia. A Costa Rainera. Nessuno la conosce quel po' è un piccolo paesino di tipo 80 abitanti, però è favoloso. Comunque sì, a volte i pezzi ci mettono... a volte magari ci mettiamo anche una settimana, altre volte un anno, come questo, e dipende tutto dal pezzo, da cosa abbiamo da raccontare. In questo caso il pezzo che parla appunto delle nostre insicurezze, delle nostre battaglie di un anno di vita e ci abbiamo messo un po' a scriverlo. Questo più o meno è la storia della canzone, direi. Poi non c'è una formula comunque, come diceva lui prima, ma su come scriviamo le canzoni è tutto molto spontaneo. Sempre in amistizia, sempre confrontandovi tra di voi, ognuno con le proprie esperienze. Esatto, essendo in cinque c'è un processo. È lungo. Esatto, non è banale. Ma voi vi trovate d'accordo spesso oppure... Non saremmo qua, credo. No, no, no. Dite la verità. No, no, veramente. Non c'è da un po' che... Non saremmo qua se non fossimo in disaccordo. Ecco. Allora, un'ultima domanda e poi vi lasciamo i vostri impegni. Cosa fate se vincete Sanremo? Ah, abbiamo scoperto l'altro giorno che pare che ci dobbiamo tingere i capelli di rosa. Wow. Noi non l'avevamo scelto, non abbiamo detto sì a questa cosa, però... Secondo me è una follia. Se succede si fa. Bene. Lo faccio. Allora, segniamo la scommessa, quindi se con l'azio vincono Sanremo, capelli rosa il giorno dopo o la sera stessa? La sera stessa. Va bene, perfetto. Allora... Secondo me non c'è pericolo, quindi... Non c'è pericolo. Non preoccupate. Ma dai, non ti buttare giù. No, ma si scherza. No, non si scherza. C'è il calzino rosa. Noi la scommessa l'abbiamo segnata. Grazie ancora ai collazio per essere stati con noi e buon Sanremo. Grazie mille, grazie a voi. Grazie mille.